Con l'operazione Occhi di Gatto, i carabinieri di Urbino hanno eseguito diverse ordinanze di misura cautelare nei confronti di cinque donne di cittadinanza italiana e di origini rom, ritenute responsabili di furti in appartamento ai danni di persone anziane in numerosi comuni del Monte Feltro, ma anche a Rimini, Urbino e nell'entroterra marchigiano, con successivo in debito utilizzo di carte di credito a pagamento. Gli accertamenti sono iniziati a settembre del 2018, quando alcuni cittadini avevano denunciato diversi furti in abitazione e segnalando all'autorità competenti la presenza di un gruppo di donne di origine rom. Il gruppo è stato individuato dalla ricostruzione delle caratteristiche fisiognomiche delle autrici dei furti. Sono state mappate le aree maggiormente bersagliate dalle incursioni delle ladre, individuando i percorsi effettuati, la cui base logistica è stata individuata all'interno di un campo nomadi in Romagna. Lo studio di numerose denunce di furto raccolte dai militari e la visione di impianti di videosorveglianza delle abitazioni hanno consentito di individuare le diverse autovetture utilizzate e dunque risalire all'identificazione delle donne. Secondo i carabinieri, il gruppo agiva durante l'orario diurno, monitorando ed effettuando sopralluoghi delle abitazioni. Una volta fatto accesso all'interno degli stabili, venivano sottratti tutti i beni di valore in vista, tra cui gioielli, denaro contante e carte di credito. Durante le azioni criminali non sono state risparmiate strutture ricettive, prese di mira anche una casa canonica lasciata disabitata durante un'onomelia. I riatti riscontrati riguardano furti in appartamento, aggravati soprattutto dal fatto che ci siamo ritrovati di fronte a una minorata difesa da parte delle persone anziane, in concorso e in debita spesa con le carte di credito che spesso venivano sottratte all'interno degli stabili. 23 sono stati furti riscontrati dai carabinieri con un danno che si aggira intorno ai 15 mila euro. Le indagini sono ancora in corso e hanno come obiettivo la scoperta di ulteriori furti in appartamento commessi in precedenza in altre regioni.